Ieri ho obbligato una cantante a bloccare 10 persone su Instagram e in questo video ti racconto un po' che cosa è successo e soprattutto perché dovresti farlo anche tu se sei un artista e non vuoi mandare all'aria il tuo sogno. Prima di raccontarti tutto mi presento brevemente, io mi chiamo Red Sky, sono un musicista e ho anche un'agenzia di marketing musicale che si chiama Ronin, con cui aiutiamo gli artisti a costruire la propria fanbase in maniera autonoma e indipendente dedicando a questa attività solo 5 minuti al giorno. In questo podcast invece, che va online ogni mattina alle 9, condivido consigli di marketing e di mindset per aiutare appunto tutti i musicisti a fare un passo avanti nella loro promozione e nella loro carriera. Allora, torniamo a noi. Cosa è successo? È successo che ieri stavo facendo una consulenza a una cantante, era l'ultima consulenza del nostro percorso di affiancamento di 90 giorni, e mi accorgo che sta pubblicando solo su TikTok e non su Instagram. Inizialmente lei mi dice che è perché la tipologia di contenuti che pubblica è molto spontanea e quindi non si adatterebbe a Instagram, che è un po' più fighetto, però scavando e scavando, perché alla fine quello che faccio è un po' il lavoro di uno psicologo, viene fuori che in realtà la verità è un'altra, e cioè che nel suo paesino dove vive ci sono queste persone che la giudicano, la prendono in giro, un po' come se fossero i bulli a scuola, no? E quindi siccome lei è stufa ovviamente di questa cosa e non le piace essere giudicata e infastidita, alla fine non pubblicava su Instagram per evitare i commenti di sta gente. Su TikTok invece questi non ci sono e quindi a posto. Quello che ho fatto, oltre a dirle un sacco di cose, è stato convincerla e diciamo obbligarla a bloccare queste persone in diretta, mentre era in consulenza con me, in modo da essere sicuro che lo facesse e in modo da liberarla da questa schiavitù. E questa è una delle leggi base della crescita personale, è una delle primissime cose che ti dicono quando leggi o studi o fai qualcosa di crescita personale, cioè elimina le persone negative dalla tua vita, perché altrimenti sono cazzi e dovresti farlo anche tu. E adesso ne parliamo. Allora, partiamo col dire che cos'è, cosa si intende con persone negative. Persone negative si intende persone che anziché contribuire alla nostra crescita personale, alla nostra evoluzione, al nostro miglioramento, in realtà fanno il contrario, cioè ci portano giù, contribuiscono a farci diventare persone peggiori. In alcuni casi, come in questo caso volontariamente, quindi proprio non c'è nemmeno da pensarci, in alcuni casi magari non lo fanno apposta, ma semplicemente essendo così trascinano giù anche te. Forse avrai sentito parlare del fatto che noi siamo il risultato della media delle cinque persone che frequentiamo di più. Quindi, se frequenti teste di cazzo, diventi una testa di cazzo, se frequenti dei geni, diventi un genio. Per cui, già nel caso in cui non lo facciano apposta, vanno eliminate. Perché se tu frequenti solo gente che nella vita non combina niente, che passa il tempo a ubriacarsi o a drogarsi, o che pensa negativo, o che si lamenta ininterrottamente, o che non ha un sogno e se gli dici che tu ce l'hai e ti prende in giro, queste persone vanno eliminate. Nel caso suo, ancora peggio, perché non è che lo fanno inconsapevolmente, ma lo fanno apposta. Cioè, gente che ti deve scrivere in DM per dirti, ah ma chi ti crede di essere, ah ma è stupido avere un sogno, ah ma tu vivi nel mondo... Ma che cazzo vuoi? Ma vaffanculo, cioè ho bloccato gente per molto meno. Quindi, non tenetevi attorno persone che vi trascinano giù. Che si tratti di hater, che si tratti di gente che vi demoralizza, gente che vi ridicolizza, eliminate sta gente che tanto non serve a niente. Poi, se sono amici o familiari, tra poco ne parliamo, ma se sono conoscenti, come in questo caso, cosa li tieni a fare? Non servono assolutamente a niente se non a portarti giù. Sono la manifestazione fisica dei demoni interiori che abbiamo già tutti dentro, delle vocine nella testa che ci vogliono abbassare l'autostima. Questi sono lì di persona. Quindi, mi vuoi tirare giù? Mi vuoi impedire di realizzare il mio sogno? Vaffanculo! Ti blocco! Ciao! E anche per strada ti incontro? Vaffanculo! Lasciami stare! Parlate tra di voi e lasciami stare! Ora, perché vanno eliminate? Vanno eliminate perché non puoi vincere questa battaglia. Cioè, già è difficile credere in te stesso e nel tuo sogno se nessuno ti dà fastidio. Già è difficile così. In più, ci sono i demoni interiori di cui parliamo appunto in questo percorso, anche queste voci nella testa che o ti dicono che sei troppo giovane o che sei troppo vecchio, ti dicono che non sei capace, che non ce la puoi fare, insomma, tutte queste robe qua. Quindi già è una battaglia interiore difficile. Se poi ci mettiamo pure una battaglia fuori, quindi ci circondiamo di gente che ci vuole boicottare, non ne usciamo più. Diventa impossibile. E se ci fai caso, nemmeno i super big della crescita personale o della spiritualità sopportano. Cioè, non è che Tony Robbins o, che ne so, Buddha, han detto, vai, sì, non li voglio mandare a fancula, me li tengo a fianco, tanto io sono forte, sono in grado di contrastarli o di resistere. No. Cioè, neanche loro, che sono i super esperti di questi argomenti, neanche loro si sottopongono a questa cosa. E la prima cosa che ti dicono è, elimina le persone negative. Quindi non è questione di non essere abbastanza forte o ignorali, fai finta di niente. Cioè, anche i più forti di crescita personale, i super coach, non so se conoscete Tony Robbins, ma appunto, non so, ha fatto il coach di Obama, quindi, cioè, stiamo parlando di livelli altissimi. Neanche loro ci provano. Perché è proprio, è come, che ne so, essere a dieta e decidere di lavorare in un negozio di torte. Cioè, non può funzionare. È troppa, ti esponi volontariamente a della negatività, che vince sempre. Ora, siccome la battaglia nella vita è tra andare su o andare giù, quindi tra evolversi o involversi, questo vale per tutto, ed è molto più difficile andare su che andare giù. Se tu ti circondi di gente che va giù, ti portano giù anche a te. Quindi, elimina le persone negative dalla tua vita. Tutte quelle persone che, se gli racconti che è un sogno, ti prendono in giro, ti dicono che non si può fare. Tutte quelle persone che ti incitano a mollare, che scherzano, ti prendono per il culo. Anche questa cosa, purtroppo, tra gli amici spesso c'è che ci si prende in giro, come dire, anziché farsi complimenti, ironizzando per divertimento, ma comunque ti abbassano l'autostima. Perché tu dici, non so, ho fatto una canzone, sì, dove cazzo vuoi andare con la tua canzone? E ti prendono in giro così simpaticamente. Ma fa comunque danni. Quindi, l'inconscio non fa differenza tra la presa in giro e la cosa seria. Quindi noi dobbiamo circondarci di gente che ci motiva, che ci supporta, che ha un sogno, che ha degli obiettivi, che ha gli nostri stessi valori, non con gente che ha rinunciato al suo sogno e che aspetta solo il weekend per drogarsi, e basta. Perché altrimenti diventiamo come loro. Ora, cosa succede se le persone negative non sono dei conoscenti che puoi mandare a fanculo così senza ripensamenti, ma sono degli amici o sono dei parenti che quindi non puoi eliminare? In questo caso, se proprio non puoi allontanarli, il consiglio è quello di cercare di averci a che fare il meno possibile o perlomeno di evitare determinati argomenti. Quindi se sai che con i tuoi genitori, che ne so, se parli del fatto che vuoi vivere di musica, ti dicono di lasciar stare o non credono in te, non parlare di quell'argomento. Ignoralo. Ti viene, ti capita qualcosa di bello nella musica o hai un nuovo obiettivo? Non diglielo, tienitelo per te. Perché altrimenti, se sai già che parlandone poi la reazione è quella, non toccare quell'argomento. Per tutte quelle persone invece che puoi eliminare della tua vita senza problemi, perché tanto non servono a niente se non a romperti il cazzo, elimina le. Cioè non dobbiamo essere buoni in questo frangente. Dobbiamo comportarci sia verso la voce che abbiamo dentro, sia verso queste persone, in maniera spietata. Cioè appena cominciano a insinuarti il dubbio, a prenderti in giro, a demotivarti, stai zitto, vaffanculo, ciao, bloccato. Perché se non lo fai, queste voci cominciano a insinuarsi in testa, si ingrandiscono a livello esponenziale e ti buttano giù. Per cui, se hai un sogno, nella musica, ma non necessariamente nella musica in generale, isolati. Se non puoi circondarti di persone positive che ti motivano e credono in te, isolati piuttosto. Allontanati da quelle negative almeno. Noi tra l'altro alla fine del percorso abbiamo un canale telegram dove dentro ci sono tutti gli artisti che hanno fatto questo percorso ed è un ottimo modo per circondarsi di persone come te che se gli dici ho un obiettivo, ho un sogno, ti dicono vai grande, provaci, fallo, non ti dicono ma dove cazzo vuoi andare. Queste persone che ti dicono dove cazzo vuoi andare dobbiamo dirgli noi a loro dove devono andare. Devono andare a fanculo perché non servono e stanno minando il nostro sogno. Ora, l'Italia punisce diciamo le aggressioni fisiche, non punisce quelle mentali ma dovrebbe perché sono ancora più gravi perché se tu mi mini l'autostima con le tue parole mi stai rovinando la vita che fa molto più male di un pugno e basta. Poi dipende se tu tira Tyson forse no però insomma quindi ci siamo capiti per cui solo perché sono parole non vuol dire che sia una cosa meno grave di mettermi un bastone tra le ruote letteralmente per cui elimina queste persone dalla tua vita è una delle tre leggi base della crescita personale allontana chiunque non contribuisca al tuo miglioramento alla tua evoluzione alla realizzazione dei tuoi sogni perché se vuoi diventare una persona di un certo tipo di successo chiamiamola non puoi circondarti di falliti perché questi sono falliti sostanzialmente non perché abbiano perso non perché abbiano tentato di far qualcosa e non ci sono riusciti ma perché non ci hanno neanche tentato e soprattutto perché vogliono convincere te a non tentarci quindi dobbiamo proteggerci non è che ci isoliamo per tirarcela dobbiamo proteggerci perché non siamo nessuno di noi abbastanza forte da poter resistere a questa tempesta di demotivazione quotidiana e uscirne in leso neanche Tony Robbins neanche Buddha non a caso se ci fai caso i mistici si isolano dal mondo non è che stanno in mezzo alla città si isolano quindi se lo fanno loro dobbiamo farlo anche noi detto questo ti ricordo che in descrizione trovi tanti link utili soprattutto la settimana prossima che ci sarà un nuovo webinar gratuito che ti insegnerà come aumentare gli ascolti e tante altre belle cose e io ti do appuntamento a domani mattina alle 9 per il nuovo episodio di questo podcast ciao guerriero